ciao io parto e dove vai a napoli si ma dobbiamo fare la puntata no va beh il treno parte tra due ore abbiamo tempo così faccio anche la valigia perché è vuota velocemente facciamo la valigia questa settimana a napoli cosa faccio sicuramente mangio una pizza più di una però non c'entra niente con la valigia esco venerdì e giovedì si porto un paio di felpe o maglioni perfetto facciamo così è così dormo quattro giorni a napoli quindi biancheria per quattro giorni via poi che altro la sera leggo quindi porto qualcosa da leggere fatto brody tu non vieni mi dispiace tu rimani qui quindi esco leggo sto a napoli quattro giorni che altro mi manca che ti che faccio non lo so vai a casa di tuo zio probabile però che devo portare ah sì allora l'agenda c'è dov'è la penna come faccio a scrivere gli esercizi senza la penna trovata quindi tutto pronto se volete l'accesso a materiali extra come esercizi audio lento e veloce video con e senza sottotitoli e l'accesso al grammar bank basta far parte della comunità esitalia in questo modo ogni settimana riceverete tutti i materiali extra per imparare meglio dalle nostre puntate per saperne di più cliccate il link in descrizione o qua io adesso continuo a fare la valigia forse una camicia porta una camicia ok altro dormi a casa di tua mamma sì il pigiama hai ragione devo portare il pigiama direi che hai ragione quindi pigiama maglietta chi vedi in questi giorni beh sicuramente vedo amici sicuramente esco la sera ma ho tutto poi voglio comprare un paio di scarpe e voglio mangiare tante pizze ma di nuovo non cambia la valigia soldi soldi i soldi hai ragione portafogli portafogli preso per questo lo mettiamo qua mentre matteo fa la valigia sono curiosa di sapere voi che fate questa settimana scrivetecelo nei commenti utilizzando il presente siamo a febbraio quindi non vai in spiaggia non vado in spiaggia non porto un costume non porto un asciugamano anche perché a casa di patti ovvero mia mamma ce ne sono quindi sono pronto per partire a chi ora parte il treno il treno parte alle 10 e 20 a che ora arrivi arrivo al arrivo alle 4 più o meno dipende a volte c'è ritardo e patti viene a prendermi allora partiamo io vengo no in questa puntata avete visto molti eccomi sei ancora qui sì in realtà parte oggi pomeriggio matteo ma questo viaggio come l'hai organizzato organizzato bene però dimenticato tutto ma che ora arriva penso le 10 mangi qualcosa beh mangio lì probabilmente una pizza quindi abbiamo tempo per parlare del futuro si del futuro finto che in realtà non è il futuro ma è il presente però è il futuro ma è il presente forse avete notato che in questa conversazione in questa puntata matteo ha parlato del futuro quindi il suo viaggio cosa fa a napoli ma ha utilizzato sempre il presente perché perché in italiano quando parliamo dei nostri programmi nel futuro usiamo il presente anche se sono organizzati malissimo da me ad esempio a che ora parte il treno a che ora arriva sabato sera esco con i miei amici la sera sto a casa domenica leggo un libro se vogliamo utilizzare il futuro è corretto ma non dobbiamo preoccuparci di questo perché è più semplice ed è anche molto più naturale utilizzare il presente per parlare di queste cose a proposito quando torni domenica cucino no non ti preoccupare porto qualcosa io e ancora qui stiamo parlando del futuro ma con il presente con il presente ora facciamo un piccolo quiz tanto tempo fa abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo chiesto agli italiani cosa fai stasera? spesso hanno utilizzato il presente per parlare dei loro programmi futuri quando guardate questi esempi cercate i verbi al presente che parlano dei programmi futuri quanti sono? e andiamo a mangiare al ristorante cinese stasera rimango qua alla biblioteca degli alberi andiamo a cena staremo a cena a casa e poi vediamo degli amici dopo cena dobbiamo verificare non abbiamo verificato andiamo a verificare e allora il giudice ha verificato i verbi sono sei quali sono? vado a verificare vai me li sono dimenticati torniamo andiamo rimango c'è andiamo e vediamo andiamo due volte tecnicamente cinque verbi cinque verbi però sei occasioni occasioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti